come te chiedi? come te chiedi? in giro allora guarda, si sono guardato in giro in giro Guarda alle no no tutto noi c'è corrente no dove c'è il soli, dove c'è il soli no no poi la lascia qui c'è corrente, qui non va dove c'è il soli no 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 Sì, sì, sì. vai 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 ok ok un giro E' quello più piccolino che dobbiamo giuridire? No, quello più piccolino, sì. I due pezzi. Il pezzo è il pezzo. Non potete sbagliare. E' quello di destra. E' quello di destra. E' quello di destra. E' quello di destra. Questo va lì. No, adesso la dobbiamo provare la misura. Ospira, non è. Non la dobbiamo provare la misura. Visto? Sì. Non si tratta. Perché si tratta. Non si tratta? Non si tratta. Non si tratta. Che poi bisogna fare un po' le ricambi. Ora più su quelle. La piccola. Si tratta. Non saluto. Non saluto la piccola. C'è un problema. Poi c'è un po' l'escrivole. 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 Poi c'è un po'. Poi... Poi c'è un po'. Poi... Poi... Poi c'è un po'. Poi c'è un po'. Poi c'è un po'. Poi... 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 e adesso mettila così e adesso mettila così Grazie a tutti. 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 Un po' Grazie a tutti. Un po' Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 Vedi la cosa c'è un altro rischio, vedi? Hai visto come si cambia? Stacca la corrente quando la cambia, che non si mette a muro, no? Quei volontari sempre sentono qualcosa, quindi non può finire il valore. Ehi, non credo che può finire questa sera. No, non credo che può finire. E il muro ci prendo un cibo. Sembra questa cosa, domani gli ero giù, noi c'è che cominciamo ad andare a un dei quarti. C'è il caso di portare un ramo a venire, però noi lo vediamo proprio qua. Allora, se lo vediamo, ci vediamo. No, ci puoi correre, ma non posso fare tutte le volte. No, non si try. Non posso farle niente hanno un figured? Se non ti vai giù qua. No, io pui fissi calare nella quale, andiamo. Non si andate a tenere, non ci puoi dirvi. Se cadere uno sprigio del 160 cm, a dare al 200 kg 40 cm. Tu puoi fare in questa maniera? Certo, però non fai uguale come questi un po' più grandi. Questa è facile con le squadre, poi ce l'ha così. Per il 160 cm e il 160 cm. No, arrivi dal bici con l'elettrico. Hai capito? E' così che mi dice il bici con 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 il bici. No qui con il bici con il bici con il bici con il faultale e il quel jo abus은 passare nella spirale Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 un po' di più la mano non è certo non è facile non è facile non è facile e ti metti la mente attiva lì qua prima a metterla nella tavola di sopra facciamo il senso con il dedo prima metterla qua no 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 l'interno No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. and then down the waist of chest come up here due legate mette lì da il centro Ok, metti le viti dove vanno a prenderlo, lì, le vanno già fatte. se non puoi fare pure quelle mie non ci vuole poi poggiamo questi le cose tu metti i reti le stelle le stelle allora questo posto facciamo un po' si devi fare una bocca però se le di tavola tu devi vedere no 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 togli fuori così non devi spaccarla non devi fare forte quando è alla fine ok è dove deve essere un pochettino da lontano e per quando arriva alla fine non fare forte perché ok 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 Grazie a tutti.